Gol e spettacolo al curlo. Il Nardò supera per 3-2 un fasano combattivo e mai d'uomo. La squadra guidata da Mr. Ragno parte decisamente meglio rispetto ai padroni di casa. Al settimo minuto Guadadupi calcia da buona posizione, ma Lazare blocca. Dopo 5 minuti i Salantini sfiorano 1-0 con un tiraggiro di Dambos che lambisce il palo e termina sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge il diciottesimo. Cross dalla sinistra di Russo, Gennari in spaccata colpisce la sfera e batte Lazare. Due giri di lancetta e gli ospiti raddoppano. Guadadupi lancia in profondità Danna, cross teso sul secondo palo per Gentile che sigla il 2-0. Una timida reazione del fasano giunge al trentesimo con un colpo di testa di Rosavio servito dalla sinistra, ma la sfera termina di poco a lato. Al quarto della ripresa Nardò sfiora il tris con un tiro di Ceccarini imbeccato da Gentile, ma la conclusione sfiora l'incrocio. Al dodicesimo il fasano accorcia. Cross di cadabria dalla sinistra, Rosavio colpisce di testa verso la porta. La sfera sfugge dalle mani di Millie che fa sbattere il pallone sul palo, varcando la linea di porta. Al diciassettesimo il fasano recrimina per un gol annullato a Calabria. Il trequartista segna direttamente da calcio d'angolo, ma l'arbitro annulla per un fallo in attacco della squadra fasanese, tra le potesse di giocatore e panchina. Al trentesettesimo il Nardò trova la rete dell'1-3. Danna serve sul filo del fuorigioco russo, che tutto solo punisce col sinistro la zarra e chiude virtualmente la partita. Il fasano però non molle e riapre la contesa al quarantunesimo. Renellus in velocità avanza verso la metà campo dei retini e calcia col destro a giro. Viola non trattiene e Battista trova il tappo invincente per il 2-3. Non basta l'assalto nel finale del fasano, che subisce il terzo stoppo sagionale. Esulta il Nardò, che balza al terzo posto in classifica, due punti di distanza dal casarano. Viola non trattiene e Battista trova il tappo invincente per il 2-3.